Benvenuti, questo è il primo podcast in pillole 1, 2, barra 3 minuti in cui vi parliamo degli ultimi argomenti che arrivano dall'attualità, no? Tutte cose strane che accadono nel mondo, vogliamo parlarne con voi in non più di 3 minuti, chiaramente per non fiaccarvi troppo. E dopo questo pippone iniziale, iniziamo subito allora a parlare di questo argomento. Di cosa si parla? Beh, voglio parlarvi oggi di Facebook Pay. Pensate che il colosso Facebook ha deciso di mettere in piedi una piattaforma di scambio di moneta virtuale. Vuole forse Zuckerberg assomigliare, no? Un po' alla piattaforma Bitcoin, chiaramente però vuole farlo in modo più sicuramente sicuro. Infatti non si potranno scambiare soldi se abbiamo meno di 18 anni e questo lui lo verificherà anche attraverso i nostri documenti. Quindi insomma diventerà una cosa a tutti gli effetti molto professionale e importante. E soprattutto lui stesso ha dichiarato che vuole che lo scambio di denaro avvenga con una facilità tale come inviare un ciao su WhatsApp. Cioè proprio la stessa identica cosa e questo si può fare, cioè nel senso si può appoggiare chiaramente al 100%. Perché quanto è facile in questo modo magari dire, oh caspita, devo dare 10 euro a un amico che ieri me li ha prestati per una pizza. Tac, su Messenger subito te li invio e in due secondi li hai all'interno del tuo portafoglio virtuale dove poi puoi spenderli come ti interessa a te. Chissà, vi lascio con questa domanda. Zuckerberg forse ha voluto fare questa cosa perché il suo social network attualmente è in crisi? È possibile, è possibile. In questo momento sta sbancando alla grande Instagram ma d'altronde lui probabilmente si gratta al mento perché è comunque di sua proprietà. Ma non sappiamo se Facebook sia in crisi o meno. Sta di fatto che lo scopriremo chiaramente soltanto vedendo anche come andrà questo Facebook Pay e capiremo chiaramente cosa, che fine farà meglio il nostro social network che tanto abbiamo amato negli anni scorsi. Io vi rimando ad un prossimo appuntamento col nostro podcast in pillole e vi aspetto sempre qua su tutti i nostri social. Mi raccomando seguiteci. Ciao.